Cazzaia, ministro buonasera. Allora, lei si trova a Lussemburgo dove ha appena raggiunto un accordo molto importante per quanto riguarda le quote latte. Ce ne vuole parlare? Beh, è un grande risultato visto e considerato che a fronte di un momento di difficoltà riusciamo a annunciare che c'è stata la disponibilità di erogare 280 milioni di interventi diretti ai nostri allevatori per il tramite ovviamente di ogni Stato membro da parte dell'Europa. Quindi l'Europa eroga 280 milioni di euro e poi anche un impegno per la massa privata di formaggi che in soldone significa andare a comprare formaggio in venduto sul mercato con fondi comunitari.